Tutto pronto per la nuova stagione di Ballando con le stelle. Il talent del sabato sera di Rai 1 si annuncia ricco di sorprese a partire dalla conduzione. Confermati anche quest'anno Millie Carlucci e Paolo Belli, ma al timone del fortunato programma di Viale Mazzini dovrebbe aggiungersi un terzo conduttore. Ad annunciare la novità è stata la stessa Carlucci, domenica 25 febbraio, ospita Domenica Inn. Del conduttore misterioso sappiamo solo che è un uomo del mondo dello spettacolo e che è giovane, bello, atletico e molto, molto alto. A Cristina Parodi Millie non ha confidato altro, ma gli indizi sono davvero pochi e molto comuni a tanti personaggi televisivi per riuscire a identificarlo. Su Twitter intanto è partito già il Totonomi, qualcuno azzarda l'ipotesi di Roberto Bolle. Il ballerino in effetti, le caratteristiche elencate dalla Carlucci, le ha tutte, ma il suo nome era già stato annunciato qualche giorno fa come superospite. Difficile che possa fare entrambe le cose. Insomma, per saperne di più bisognerà aspettare sabato 10 marzo, sintonizzarsi su Rai 1 e godersi lo show. Che quest'anno sarà dedicato a Bibi Ballandi, scomparso pochi giorni fa, dovrà essere la più bella delle nostre 13 edizioni, ha promesso la Carlucci.